Si sono conclusi i lavori in Via Roma a Terranova Bracciolini. Lavori pubblici a Terranova Bracciolini, Via Roma, siamo in strada, è proprio il caso di dirlo, è chiuso in questo momento perché i lavori ancora sono in corso, ma stanno davvero per finire. Un'efficienza incredibile, partiti da pochi giorni e già Via Roma è splendida e nuova si può dire. Sì, diciamo che siamo assolutamente all'interno della tabella di marcia. Abbiamo cominciato ormai una settimana fa, secondo le modalità e la tempista che ci avevamo date abbiamo svolto le nuove pavimentazioni dei marciapiedi la settimana scorsa e adesso siamo in corso con la pavimentazione della carreggiata stradale. Niente, conta la ditta di ultimare i lavori dentro questa sera, però precauzionalmente terremo chiusa la viabilità almeno per altri giorni fino a giovedì mattina. In maniera da far, come dire, tirare un po' l'asfalto e cercare di andare a sciupare il meno possibile la pavimentazione in pietra in piazza perché appunto la patina di asfalto può macchiare, ci hanno detto, può macchiare la piazza e vogliamo preservare anche la struttura della piazza. L'intervento, come dissi, è un intervento all'incirca 40.000 euro e diciamo che il risultato è stato importante nonostante la cifra sia stata contenuta. Sicuramente un intervento che ci voleva, una via Roma che stava prendendo anche un po' i segni del tempo, pronti anche, lo possiamo dire, per la festa Terra Nuova, che le persone avranno una passeggiata sicuramente diversa. Sì, certo, appunto era, diciamo, in condizioni ormai estreme perché c'erano delle buche, dossi, specialmente andropeveva, c'erano delle pozze e soprattutto è stato rifatto questo, diciamo, look, proprio anche in un periodo, diciamo, come dire, tra parentesi, morto perché appunto le attività sono semi chiuse e le persone sono in ferie. Però preparato per il settembre, il settembre delle festività del perdono che sono, insomma, diciamo, il ferralocchiello del nostro omone.